ok buongiorno sono sergio calvi di auto calvi siamo con questo video a presentare per voi i nostri usati selezionati del marchio audi in questa settimana abbiamo veramente degli usati tipo un audi a1 un audi a3 due audi a3 addirittura un audi a4 che sicuramente possiamo dare come garanzia ottimali e sistemi di controlli interni nostri dettagliati al cento per cento i prezzi naturalmente variano dai 10 ai 20 ai 30 mila euro riusciamo a contentare tutti tutte le vostre esigenze per dare un audi comunque usata e comunque come nuova e perfetta